ogni istante della nostra vita è un tesoro inestimabile perché vedi è il nostro corpo il nostro sistema nervoso tutto quello che che noi siamo che percepiamo di noi stessi accumula giorno dopo giorno esperienza giorno dopo giorno ogni istante che viviamo compreso questo in cui stai guardando questo video va a costruire quello che noi siamo va a costruire una parte di noi stessi va ad alimentare la nostra stessa vita istante dopo istante noi andiamo ad acquisire informazioni conoscenze esperienze che vanno a modificare il nostro modo di essere e di percepire la realtà che ci circonda per questo uno dei suggerimenti che mi sento di darti quello di cercare di rendere ogni istante il migliore che puoi cercare di far sì che ogni istante diventi quanto tu quanto più possibile per te il meglio per te e per le persone intorno a te se riesce a fare questo se riesce a migliorare istante per istante riuscendo quindi a portare la tua attenzione a quello che accade nel di qui e ora lentamente migliorerai tu lentamente tu stesso riuscirai a stare sempre meglio nella tua vita perché la nostra vita è fatta di tanti istanti di tanti istanti che si susseguono l'un l'altro ecco che se anziché perderci a volte in quella visione globale che che ci porta a far fatica a mantenere le fila di tutto riusciamo invece a focalizzarci sull'istante istante per istante momento per momento cercando veramente di dare il meglio di noi stessi proprio lì in quel momento proprio qui ora allora ecco che se questo intento viene portato avanti nel tempo quello che accade è che miglioriamo noi perché semplicemente continuava ad accumulare esperienza però esperienza positiva esperienza in cui stiamo bene esperienza nelle quali riusciamo a sentire di vivere emozioni positive stati positivi positivi e sensazioni positivi allora questo giorno dopo giorno si assomma facendoci stare sempre meglio grazie a tutti